Solo che ho fatto appisellate con Kertz, proprio fisicamente, mi ho fatto duello di cazzi e poi... Tanto il pulo. Sì, 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 era praticamente finita la scena, c'era la cameriera di VDG, la storica cameriera che stava sparecchiando. Inutilmente abbiamo provato a far desistere Dario e Kertz da questa gara che aveva il buco del culo migliore. Ho vinto io, eh, peraltro. Io ho l'anno migliore rispetto a Kertz, questo lo dovete sapere tutti perché è importante. Allora, siete stati tutti tranquilli. C'è stato un ragazzo che mi ha fatto piangere dalle risate, più che altro non tanto per lui, ma per la reazione di Riccardo Sandroni. Riccardo Sandroni era uno dei gestori dello stand, super mite, nel tono di voce, nell'espressione. C'è questa espressione qui. Sempre, tutto il giorno, tutti i giorni della sua vita. Arriva questo ragazzo e si fa fare la firma sull'album, la firma sulle carte, a un certo punto fa... Grazie Dario, grazie mille per la firma! E tira un urlo fortissimo, si girano tutti e c'è Sandroni che lo guarda. Guarda a me, il prossimo. Quando c'era un ragazzo, credo che abbia avuto 16 a 7 anni, molto composto. Si voleva far filmare l'album, un manga, mi sembra, insomma, altra roba. Era Dario che tipo faceva... Stavo filmando così. Hanno tentato di scoparmela tutte le donne che ho incontrato a Luca Comics, Agnese. Tutte, non ce n'è stata una. Agnese, andiamo via, dai, no, andiamo via, una sega. Pop!